Sono passati quasi sotto traccia le 19 vittorie consecutive tra campionato e Coppa e soprattutto il fatto che il coach non si sia mai lamentato delle assenze. Ha fatto sì che il loro apporto sia andato ovviamente in secondo piano, il primo lontano dai campi ormai dal girone di andata dopo l'infortunio contro Cantù e autentico beniamino del pubblico del Palazzo Radimigni ha seguito la serie con grande trepidazione. Il secondo l'ha vissuto ancora con più tensione a bordo campo con la voglia di entrare e spaccare il mondo ma in questi casi mai rischiare. E questo è il verbo principe per Tyrus McGee che era stato perfetto e riequilibratore nel quintetto di coach Pozzecco sia come arma difensiva che come creatore dal palleggio e finisher risultando decisivo nella finale di FIBA Euro Cup a Würzburg. You know we had the advantage, home court advantage at the beginning on the first round and second round, the second game was pretty tough and to be honest with you I thought it was going to be even tougher game 3 in Brindisi because we knew how the fans were going to be there and how the atmosphere, Brindisi didn't give up not one time, they continued to fight until the very end and we ended up coming out with the victory to sweep them. Entrambi hanno più cose in comune, il ruolo di guardia, il momento coperto in modo eccezionale con gentile e spisso l'apporto di Justin Carter ma soprattutto il lavoro quotidiano intenso per entrambi. Il primo per cercare di essere perfettamente recuperato dalla rottura del crociato, il secondo per riuscire a scendere in campo in semifinale. Il primo per cercare di avere un'amore. Il secondo per cercare di essere molto difficile tra i giochi e fanno facendo, e poi facendo le tagline. Il primo per cercare di vedere i giochi e facendo l'amore. Il primo per cercare di essere in campo non potendo essere un'amore. Il primo per cercare di essere in fondo, ma tempo è overto. Il primo per cercare di essere molto bene. scopre man mano lungo la strada di questa stagione come off the bench and played well, you know, he's led the team and been a really good point guard for us, so I think those three players in the playoffs, they've shown in the last three games, they've shown that they can lead us and stuff, but also everyone, you know, Gentile has played well, you can go down the list, Aki has played well, Jamie's started to play well, he's getting a little bit healthier, so there's just everyone, Jack Cooley played well last game, so you can go, and that's what makes a good team, you know, when every player, plays well, a different game, and that's what makes a really, really good team, and I think a coach does a great job of putting the players in position to play well. Tyrus non vede l'ora di rientrare, è sempre prodigo di consigli in panchina, ma lancia una sfida, una particolare, proprio al suo coach. Potts, whenever you want to have that challenge, you know where to find me. Banco di Sardegna, Gruppo Beeper.